Caro mio è arrivata la tua ora Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale Ragazzi è arrivato anche da noi il momento di occuparci di un tema che sta sconvolgendo, avvolgendo il web E' arrivato anche su tuo cuore una cappa FITTI E allora questi infusi Ma è scritto FITTEA FITTEA Ma invece si legge FITTI Wow! Allora questi infusi che servono per le diete Va bene me ne sto andando ci vediamo al prossimo video Ciao amici No tu ora rimani Detoxatevi voi Tu ora rimani perché non puoi dire così Allora ci ha contattati la FITTI Per chiedere se volevamo provare e recensire i loro prodotti No! E io, io, pensate io che bevo i tè Avevo detto ma sai Gabriele che c'è mi scoccia Tanto ce ne sono tante recensioni sul web di FITTI Perché fare anche la nostra? Sarebbe un in più Però il tizio E invece ce ne siamo pregati No 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 Non lo facciamo No 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 È stato così Il tizio qua Io, io è colpa mia Ha detto sai che c'è ombretta Lo voglio fare io il programma Io, io lo proverò il programma E la mia reazione è stata questa Però lo sto facendo Perché lui vuole provare il programma Perché lui si sente appesantito E anche io sto facendo il programma Ma non di FITTI Sto facendo un programma alimentare un pochettino più discreto Diciamo Un programma però in discontinuo È vero E niente Quindi approfittate di questa cosa E ci siamo fatti mandare questi infusi Bravo Vi facciamo vedere Non immaginate Guardando questo video Innanzitutto diciamo che è un video in collaborazione con FITTI Quindi se l'argomento non vi interessa Chiudi qui Fa anche rima Quindi FITTI non ci paga Non ci paga Lo sanno FITTI non paga FITTI perché non ci paghi Questo lo chiedo io Perché non gli ho chiesto solo No, gli abbiamo chiesto solo Allora FITTI non ci paga L'abbiamo solamente preso come balla al balzo Perché Gabriele ha espresso questo desiderio di dimagrire E io non me lo sono fatto ripetere due volte E in più mi divertivo un sacco l'idea Di vederlo tracannarsi un beverozzo ogni mattina Molto sinceramente Lui che quando faccia il tene beve due sorsi E poi lo butta Bene Perché queste due cose sono leggermente incompatibili tra di loro Maia, diamo al dunque Dice un passo alla volta Eppure è vero Cosa ci è arrivato ragazzi? Ci è arrivato il body detox 28 giorni Questo qui Super fruit Il nostro super fruit detox tea E' il tuo piacere fruttato ideale per la cura detox Goditi un momento speciale Bla 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 Preparati il beverozzo E qua c'è tutto Bello scritto E qua c'è scritto come si prepara Vi dico come si prepara Cosa c'è dentro? Uno o due cucchiaini in tazza 100 gradi per 6-8 minuti E questo è uno Poi loro ci hanno mandato il programma per due Perché siamo due quindi E ci hanno mandato anche il body detox 28 giorni Fitberry E qua regalati una sensazione di leggerezza E benessere psicofisico Con il nostro fitberry C'è la solita frase simpatica Bella, incoraggiante E anche qui Due cucchiaini 100 gradi 6-8 minuti E questo invece Vedete E questo qua Così è come un purpurì Si, si presenta come un purpurì L'odore è bellissimo Allora E poi c'è arrivato anche il love tea Il love tea è invece un tè Che accompagna i vostri momenti sensuali Io fino adesso l'ho bevuto in solito Wow, aspetta Che vuol dire momenti sensuali? Non lo so Però io l'ho bevuto da sola C'è scritto momenti sensuali? Alle 5 del porigio davanti al pc E' di sensuale non la smusha Ah, ok Però, però, però In più c'è arrivato Il simpatico dondolino fogliolino Per immergere il fitberry Questo lo abbiamo usato Ovviamente perché Gabriele non poteva attendere di non usarlo E poi ci sono arrivati due Fruit tea infuser to go Cioè due bicchieri per andare in giro con l'infuso Perché tutti qua in Italia vanno in giro con l'infuso Nel senso che io vi parlerò di questi tè Dopo averli provati E' inutile che vi faccia una recensione adesso Perché non ve la posso fare Perché li stiamo provando solamente da tre giorni E tra l'altro solamente il love tea e il body detox Mentre come vedete ancora il fitberry è bello che è chiuso Non ho utilizzato i bicchieri E voi direte perché? Perché? Perché ho detto alla ragazza che se le cose che assaggiavo non mi fossero piaciute Avrei rimpacchettato il pacco e le avrei rispedito tutto Anche i bicchieri Lei mi ha detto però che non è necessario Brava e quindi noi ci teniamo i bicchieri e ti rimandiamo il purpurino Ma se dovessi nei prossimi giorni decidere che non mi piacciono E allora rimanderò a tutto Sei una persona onesta No non ho bisogno di altre camurrie per la casa Brava sei una persona onesta Allora se invece li teniamo un bicchierozzo Poi ve lo regaliamo a voi quando faremo il video recensione In cui vi parleremo delle impressioni Le prime impressioni però le possiamo dire Allora io da maschio Facile da preparare Vabbè non ci vuole niente Scaldi una salsa Lo fa lui la mattina Metti uno o due cucchiaini dentro l'infusore Là come si chiama Come si chiama infusore? Brava Devo dire che il gusto è buono Almeno per quello che abbiamo provato Il super fruit È buono buono Un bel equilibrio di gusto Piacevole piacevole Neanche lo zuccheriamo Ed è abbastanza dolce È più buono da caldo Che non dà freddo Questo è chiaro Questo lo so perché lui lo prepara Mi viene a svegliare Poi io perdo tempo Ci sono le mattine in cui mi sveglio subito Cioè solamente la prima mattina Ma se mi dormire E l'ho bevuto caldo ed era buono Le altre due mattine Che avevo mal di testa Mi sono crogiolato un po' di più a letto È freddo Perde quasi tutto il sapore È un po' di acquetta aromatica Niente di più Forse dal zuccherato Mantiene le note un pochettino più vive È gradevole È molto gradevole Anche se ce l'hanno mandato a mo' di campioncini È il Love Tea Perché è un tea che sto prendendo il pomeriggio È sensuale Buono Non sensuale non lo so Io sempre davanti al pc Sono quando lo bevo Però è molto molto buono E c'è tè verde Gelsomino Tè verdecina Wooloo Scorza di arancia Fraga Bisogna averlo Lo sapete perché mi piace di più Davanti al pc No no Lo sapete perché Mi piace più di questo Perché non ha l'ibiscus A me tutte le cose con l'ibiscus Poi alla fine sanno di carcadè Invece questo ha un gusto Un pochettino Ah non ti fanno carcadè? No E allora Mentre per quanto riguarda Il super fruit Quelle che abbiamo provato Sì Il super fruit Io lo trovo buono Una tisana Non una tisana che mi ha fatto dire Wow un gusto nuovo di tisana No Una di quelle Ma mi è piaciuto però Ma tu non hai mai bevuto tisane prima Però mi è piaciuto Benissimo E infatti stavo dicendo proprio questo Una di quelle tisane piacevoli Che si lasciano bere Però ti interrompi da sola spesso Adesso passiamo al test Noi porteremo avanti il programma Per i 28 giorni Faremo prima questo Lo finiremo E poi quest'altro Non penso che inciderà Il fare due programmi Con due prodotti diversi È la sera quello sensuale Il pomeriggio Quello è mio Lascialo stare Dai E fate conto Che per due persone Per un mese Il costo si aggira intorno ai 50 euro Un pochino di più Perché il prezzo di ognuno Un pochino di più di pipì Diamanti Plim plim Bene Però devo anche essere sincera con voi Non ho fatto una dieta serissima È vero è vero Oggi è sabato Io da lunedì comincerò a fare la dieta serissima Nel senso che non sgarrerò più Sì sì è vero confermo Io non sgarrerò più E quindi potrò essere veramente Poi ci sarà Ovviamente Ovviamente Questo lo diciamo Perché è per giustezza di roba Non pensate che prendete questa Ma neanche che andiate all'urde Voglio dire parimenti E mangiando come dei selvaggi Possiate perdere anche solo un millimetro Deve essere accompagnato Questi sono dei coadiuvanti È un modo diverso di bere più acqua Secondo me Quindi è un modo più piacevole Ora tocca vedere se il prezzo giustifica la piacevolezza Coadiuvandolo con degli effetti Che siano maggiormente drenanti Diciamo così Il beverage qua Questi bicchieri E anche per questo Se non mi piace Io restituirò Costano 30 euro ciascuno ragazzi Hanno un bel costo Ora io non ho osservato Le caratteristiche Fisiche e dinamiche Di questa cosa Diciamo che si aprono Si svitano Si riempiono Ok E quindi la comunità può essere il passaggio Però non so se perdono Queste le comincerò ad usare Se le userò una Dal quindicesimo giorno in poi Anche perché sinceramente Io la sto preparando in tazza E mi trovo bene lo stesso Questa sarebbe secondo me più interessante Se dovessi fare un bel regalo A un'amica A un'amica che ama il fitness Credo che tutto questo genere di regalo Possa essere più adatto Quindi lo so Non è il video forse che vi aspettavate Non è un video dove parliamo Delle noti aromatiche Non è un video dove vi consigliamo Di ciorciarvelo dolcemente Però stiamo provando Se così non dovesse essere Noi torniamo tutta l'azienda Ringraziamo l'azienda che comunque ci ha provato E naturalmente daremo le nostre impressioni Sempre in modo normale Corretto Certo E del tutto personale Perché non è detto che ciò che funzioni O che non funzioni con noi Non possa funzionare O non funzionare con altri Dipende molto Impegneremo comunque a mantenere Un piano nutrizionale Bilanciato Perché senza quello E senza un po' di movimento Non c'è santo che tenga Però questo qua Il love tea ti dovrebbe far fare anche movimento Dopo no? Una volta che lo bevi Carine le confezioni Molto basic Molto belline Si richiudono Parliamo di cose funzionali Si richiudono molto bene Molto molto bene La chiusura è veramente Attenuta Anche una volta aperta Basta che dire ragazzi Noi siamo qua Noi ci rivediamo È il terzo giorno È il giorno 2 Aspettate Voi state vedendo il video Giorno 2 febbraio In realtà lo stiamo girando Il 28 di gennaio Quindi ci rivediamo Tra 25 giorni E vi sapremo dire Oppure vedrete voi Vedrete voi Se ci sono state delle Migliorie Noi misureremo La pipì Misuratevi anche voi La vostra pipì E noi ci rivediamo presto Sulle vostre tavole Ciao Ciao Ciao